Carissimi amici di Fede e Cultura, bentrovati, buon pomeriggio e siamo qui ancora una volta per il nostro consueto appuntamento del sabato per leggere e provare a commentare un po' insieme il Vangelo della Domenica. E domani, diciannovesima Domenica dopo Pentecoste, la Chiesa proclamerà una sequenza, un brano, dal Vangelo secondo Matteo, per la precisione, dal capitolo 22 di Matteo, versetti 1-14. Prendiamo allora la nostra copia del messale festivo tradizionale su Morum Pontificum, che presenta il proprium, cioè le letture e le preghiere proprie appunto delle festività e delle solennità del calendario liturgico cattolico romano, e leggiamo, siamo a pagina 394, troviamo appunto il Vangelo che sarà proclamato domani dalla Chiesa. In quel tempo Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire Ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e i miei animali grassi sono già macellati e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi, il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze tutti quelli che troverete. Usciti nelle strade, i suoi servi raccolsero quanti trovarono, buoni e cattivi. E la sala si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale, che non indossava l'abito nuziale, gli disse Amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ha muto lì. Allora il re ordinò ai servi Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto estridore di denti, perché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Questo brano di Vangelo, questa parabola, è molto interessante. Vediamo di leggerla, di commentarla passo passo. Allora, anzitutto il Signore ci dice che il Regno dei Cieli è simile a un re che fa un banchetto di nozze per suo figlio. E nel linguaggio della scrittura il banchetto di nozze, le nozze, il matrimonio, sono un'immagine dell'unione tra Dio, tra Cristo e la sua Chiesa. Cioè la Chiesa è intesa come popolo che gode della redenzione da lui acquistata sulla croce. Il re ovviamente è Dio, è questo figlio per cui il re organizza il banchetto e naturalmente è lo stesso Cristo per mezzo del quale otteniamo la redenzione, l'espiazione dei nostri peccati e in particolar modo, lo ricordiamo sempre, il peccato originale. Questo re manda i propri servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Chi sono i servi di Dio? Beh, sono anzitutto i profeti, i profeti dell'Antico Testamento che il re, cioè Dio, inviò agli invitati alle nozze. E gli invitati alle nozze sono in particolare l'Antico Israele. Gli ebrei, il popolo dell'Antico Testamento, coloro che erano stati per così dire privilegiati da Dio in questo annuncio di salvezza, coloro che discendevano da Abramo, Isacco e Giacobbe e che unici tra gli antichi avevano aperto il proprio cuore alla rivelazione e avevano così predisposto la propria discendenza alla santità. Ma i discendenti di questi santi patriarchi, gli ebrei, non solo del tempo di Gesù, ma già del tempo dei profeti, non avevano ascoltato i moniti di Dio per tornare alla sua amicizia, tornare a rispettare quel patto santo che Dio aveva stipulato con i loro padri. E' interessante quello che Dio, che il re, dice in questa parabola. Leggiamo che il re mandò altri serbi a dire Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto. Anche le nozze mistiche dell'unione tra Cristo e la sua sposa, cioè la Chiesa, presenta un pranzo particolare e questa macellazione dei buoi e degli animali grassi nel linguaggio ebraico ricorda il sacrificio, il sacrificio degli animali che avveniva nel Tempio, che era il momento più sacro della ritualità antica giudaica, ma che in questo contesto naturalmente si rifà al vero sacrificio, cioè il sacrificio di Cristo sulla croce che si rinnova ogni giorno in maniera irruenta sull'altare, sulla mensa dell'altare, tramite il sacramento, il sacrificio dell'Eucaristia. Quindi Dio chiama, in particolare chiama gli israeliti a godere di questa redenzione, ma costoro, leggiamo, non se ne curarono e andarono chi ha il proprio campo, chi ha i propri affari. Quindi vediamo come prima risposta l'indifferenza, il non prestare neanche ascolto alle parole che è il Signore. È una piaga evidentemente ancora oggi molto troppo diffusa, non solo tra quelli che non si dicono cristiani, ma purtroppo anche tra tantissimi che si dicono cattolici. Ma l'indifferenza non basta, c'è anche qualcosa di più, c'è l'odio, un odio omicida. Leggiamo infatti, altri presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Già nell'Antico Testamento tutti i profeti sono stati odiati dal popolo di Israele e messi a morte. Questo vale fino all'ultimo dei profeti, cioè fino a San Giovanni Battista, che come sappiamo fu messo a morte ed è capitato per ordine di Erode, perché aveva ribadito una verità, se vogliamo, di ordine naturale, ancora prima che di legge positiva del Signore. Cioè aveva ricordato che il concubinato è un grave peccato e che chi è divorziato non può convivere con il compagno o la compagna di un'altra persona. Allora, questo gravissimo sacrilegio, cioè l'omicidio dei propri profeti e poi ovviamente anche la messa a morte di Gesù, del figlio suo, suscita l'indignazione del re, leggiamo, e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Il Signore castiga. Questa è una verità di fede. Noi di Fedecultura abbiamo pure pubblicato un messaggio a cura del professore Roberto De Mattei, in cui analizziamo da una prospettiva teologica questa verità, cioè il fatto appunto che Dio castiga. Il libro si chiama Dio castiga al mondo. In questo versetto del Vangelo questa verità è particolarmente evidente. Il riferimento è alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio, che ci sarà di decenni, qualche decennio dopo la morte del Signore. Però ecco, il Signore continua a castigare coloro che rifiutano la sua legge. Questo non perché Dio è cattivo oppure sadico, perché il vero male è il male morale, cioè il peccato. Il male fisico non è il vero male. Certo, può essere o una prova per fortificare i giusti, come accadde per il patriarca Giobbe, oppure può essere un richiamo, quindi una manifestazione addirittura non della giustizia, ma della misericordia di Dio. Il Signore conosce il nostro cuore, i nostri sentimenti, meglio di noi stessi, e sa che magari un determinato male, un determinato momento, un determinato male fisico può servirci, è l'unica via per suscitare in noi il pentimento e la conversione, e quindi camminare non più sulla via della perdizione, ma sulla via della redenzione e della perfezione cristiana. Altre volte invece i mali che ci capitano sono delle pure conseguenze nefaste dei nostri peccati. Mi piace sempre dire che chi vive nel peccato mortale è simile a una persona che consegna le chiavi di casa direttamente nelle mani di un ladro. Non potrà poi lamentarsi se questo ladro effettivamente, quando noi siamo fuori in vacanza o da qualche altra parte, arriva, apre comodamente la porta di casa, entra, svaliggia e distrugge, o distrugge tutto quello che abbiamo. Così accade, chi vive in peccato mortale consegna le chiavi della propria anima al ladro, cioè al diavolo, che entra e distrugge tutto con i vizi, con ulteriori peccati e me dà tutto alle fiamme, quindi ci conduce direttamente alla via della perdizione, alla via dell'inferno. Quindi questi sono i motivi per cui capitano i mali nella nostra vita. Però poi leggiamo che il re cambia prospettiva e dice ai suoi servi, il banchetto nuziale è pronto, gli invitati non erano degni, andate e chiamate alle nozze tutti quelli che trovate. I servi, abbiamo visto nell'Antico Testamento, sono stati i profeti, ma i nuovi servi, i servi del Nuovo Testamento sono gli apostoli, cioè i vescovi della Chiesa, che hanno questa missione, cioè quella di portare il Vangelo, di annunciare il Vangelo, di evangelizzare le genti, di andare ai crucicchi delle strade, cioè ai quattro angoli del mondo, per portare il Vangelo. Usciti nelle strade, i servi di questo re, cioè di Dio, raccolsero quanti trovarono, buoni e cattivi, e la sala, che è immagine del Paradiso, è immagine della vita eterna, si riempì di commensali. È importante sottolineare questo aspetto. I servi del Nuovo Testamento raccolsero quanti trovarono, buoni e cattivi. E in questo senso i buoni fa riferimento agli ebrei, quindi gli ebrei non sono esclusi dalla chiamata alla saltezza. Certamente gli israeliti del tempo di Gesù rifiutano come popolo la promessa e la venuta del vero Messia, del vero Cristo, che è Gesù di Nazareth. Però, come dice San Paolo, i doni di Dio sono irrevocabili, gli ebrei sono ancora oggi alla conversione alla vera, unica fede cattolica. E poi c'è quest'ultimo aspetto, quest'ultima parte del Vangelo, che è molto interessante, che è stata tra l'altro fraintesa anche da alcuni teologi protestanti, penso in primis a Giovanni Calvino. Cioè, quest'ora entra per vedere i commensali, dice Gesù, e scorge un tale che non indossa l'abito nuziale. Il re gli chiede come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? E alla mancanza di risposta da parte di questo invitato, il re dà un ordine molto severo, dice, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti, che è la tipica espressione che Gesù utilizza per fare riferimento alla realtà eterna dell'inferno. Che cosa rappresenta questo abito nuziale? Rappresenta l'abito del battesimo. Il battesimo è, per noi cristiani, la seconda nascita, la nascita nello spirito, che ci rende figli di Dio, adottivi, non più figli di Dio da un punto di vista meramente creaturale. Tutti noi uomini siamo figli di Dio nel senso di creature di Dio, ma non tutti gli uomini, solo i cristiani battezzati, sono figli di Dio adottivi, dice San Paolo. Cioè che godono della figliolanza di Gesù, che è l'unico figlio di Dio per natura, per i meriti proprio della croce del Signore. Ecco, non si può entrare in questa sala nuziale, cioè nel paradiso, senza l'abito nuziale, cioè senza il sacramento del battesimo, che è necessario per la salvezza. Oggi, anche tra i cattolici, sono tante le tendenze, potremmo dire neopelagiane, che negano la necessità sacramentale del battesimo, oppure negano la sua funzione, che è quella di rimuovere la colpa e gli effetti del peccato originale. Questo è un errore. Il battesimo non è semplicemente un sacramento che ci fa entrare nella Chiesa. Ha dei effetti ben precisi sulla nostra anima. Non dobbiamo fare questi errori. Molti purtroppo credono che ci si può salvare anche senza battesimo. Certo, Dio, se vuole, può farlo, ma si tratta sempre di vie straordinarie, non di vie ordinarie. E noi siamo chiamati a conoscere e a predicare l'ordinarietà di Dio, non la straordinarietà. La straordinarietà spetta solo alla sua imperscrutabile volontà. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Vi invito ad acquistare, se non l'avete già fatto, il messale festivo tradizionale su Morum Pontificum sul nostro sito www.fedecultura.com. Vi ricordo che, come leggete in sovrimpressione, acquistare direttamente i nostri libri sul nostro e-commerce, sulla nostra libreria online, anziché sui grandi mezzi di distribuzione, è il modo più concreto, più cospicuo per sostenere il nostro apostolato, la nostra piccola casa editrice. Grazie come sempre per la vostra attenzione e noi ci vediamo sabato prossimo per un nuovo commento, per un nuovo appuntamento, per qualche riflessione sul Vangelo della Domenica, secondo la forma straordinaria del rito romano. Grazie e Santa Domenica a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.